Salve, oggi vi presento un altro giovane calciatore europeo, Antonio Nusa, di nazionalità norvegese ma di padre nigeriano. Si tratta di un 2005, dunque il meglio di si deve ancora farlo vedere. Nonostante la giovane età, lo scorso campionato Nusa ha spesso trovato spazio nel club Bruges, dove gioca come ala sinistra, questo senza dubbio. È il suo ruolo naturale e non è da escludere il suo impiego su tutto il fronte d'attacco, se si presenta una situazione d'emergenza, è bene dirlo, nel club Berga. Almeno fino all'anno scorso l'attaccante non era un titolare, ma ha anche detto che ha avuto una serie di infortuni che l'hanno un po' frenato. Comunque quest'anno, almeno la prima di campionato, è partito dall'inizio. L'abbiamo visto agire però sulla destra nella partita contro il Mesh Len, fascia che solitamente era di competenza di Skowolsen, che conosciamo tutti benissimo per la sua militanza nel Bologna. Staremo a vedere se quest'anno Nusa riuscirà a trovare ancora più spazio nel Bruges o altrove, ma prima di parlarvi delle sue skills vi invito a iscrivervi al canale. Antonio Nusa è un attaccante di piede destro. Quanto alla sua posizione in campo, ho già detto, è un calciatore che si caratterizza per la sua intelligenza tattica e l'abilità di occupare lo spazio. È molto mobile e quindi gode di una certa imprevedibilità. È innegabile che questo ragazzo abbia un dribbling efficace, che unito alle sue accelerazioni ne fanno un calciatore pericoloso. Altro punto di forza è la sua visione di gioco, che tuttavia non coincide con l'abilità di effettuare il passaggio. Il problema non è tanto la direzione, anzi, Nusa è bravo nel trovare il corridoio giusto, anche quando il compagno gli arriva alle spalle e si inserisce, quanto il dosaggio del passaggio. Tuttavia questa è una lacuna che il calciatore ha tutto il tempo per colmare, quindi ora non mi preoccuperei. Ma torniamo a parlare degli aspetti positivi, come la sua aggressività in fase di non possesso. È bravo a pressare l'avversario e si impegna per recuperare il pallone. Non parlo di un pressing sconsiderato, che fa rischiare di lasciare uno spazio scoperto alle spalle. È proprio qui che sta il bello. Agisce con i tempi e i modi giusti. Poi è chiaro che il pressing è un'azione collettiva, ma lui la sua parte la fa bene. Segna poco, ma non perde merito. Oltretutto non è un egoista. Spesso preferisce seguire il compagno, meglio posizionato, anche se non vanto un numero altissimo di assist, questo va detto. Ha un tiro teso e preciso, e se deve calciare con il piede debole non si tira indietro. Arriva alla conclusione. Antonio Nusa ha delle grandi potenzialità. Se consideriamo la sua età, quello che ha fatto fino ad oggi non è poco. Di tempo per crescere e migliorare ce n'è tanto, ha solo bisogno di giocare sia per fare esperienza, sia per far esplodere tutto il suo potenziale. Io vi saluto, ricordatevi di iscrivervi al canale, e ci vediamo la prossima volta con un altro video.